Ciao ragazze e ragazzi volevo fare un attimo questo video veloce siccome sono passata per il mercatino e stavo con Davide come sapete ogni tanto approfitto quando passo con lui e mi faccio comprare qualche cosa perché mi servivano delle cose poi ho visto altre cose e le ho comprate però sono piccole sciocchezze allora mi serviva un cappettino per il mouse perché è subicino al portatile perché uso il mouse a parte non uso il non scrivo direttamente non uso quello del portatile perché mi risulta difficile e quindi ho preso questo qua che sfizio di Rilakuma troppo carino c'è pure questo qua per appoggiare il polso che sfizio questo qua l'ha pagato 3 euro perché io non vado da sola poi ho comprato queste due cose qui che mi servivano perché si erano rovinate queste qua che tengo rosa e le ho presi due 50 centesimi l'una queste due qua poi ho preso questi sticker troppo belli guardate come sono belli questo qua tutto questo sticker e qua questi 2 euro e 50 che bello che bello con questa scrivania questo comodino le farfalle i fioi ora devo capire dove le devo mettere perché io sto sistemando un poco la mia scrivania sto facendo un poco per lo studio un po' sto pensando che penso di mettere anche il lato dei trucchi sono indecisa i trucchi dove metterli perché non so devo vedere un poco e quindi non lo so dove li metto poi vi faccio vedere poi dopo questi fiori ho preso queste due presine 50 centesimi poi ho preso questi allora questi qua accessori per cucito sono dei bottoncini per fare come fa Silvia a volte che fa le chiusure con i bottoncini fa quei braccialetti troppo bellini e questi qui un euro poi ho preso questi fiorellini un euro tipo bottoncini sempre e poi ho preso un altro ho preso un altro cosa di coccinelle ecco qua poi ho preso che mi era si era rotto l'accendicassa perché ho sentito di questi accendicassa non mi trovo subito si accende il gas del carino poi per finire ah no poi ho preso pure questi qua 70 centesimi sono dei dadini con delle con le lettere alfabetico e le ho prese e poi per finire siccome voglio fare delle creazioni voglio provare a fare delle creazioni con la lana infatti sto aspettando pure il tutorial di una ragazza che deve fare il tutorial non mi ricordo il link di questa ragazza deve fare questo tutorial di questa collana con le catene che mi piace un sacco e volevo vedere se ci riuscivo a farle pure io quindi ho preso ho preso proprio costa bene un euro ho preso questa grigia infatti Davide ha detto ora ti dai anche alla lana sì mi voglio dare anche alla lana poi questa qui arancione che bello questo arancione poi questo qui azzurro io volevo già provare a fare qualche creazione con la lana poi per esempio voglio vedere se riesco a fare i fiorellini poi questo colore rosa che spettacolare rosa confetto proprio ho preso i colori più diciamo che mi piacciono e poi questo marrone qua perché diciamo che questi qua sono più estivi però grigio e marrone sono più invernali volevo provare a fare qualcosa con la lana e basta questi sono ho preso non è che ho preso chissà che cosa però come vi volevo far vedere pure se compro solo una cosa ve lo voglio far vedere comunque e niente questi sono gli acquisti mercatini vi mando un bacio al prossimo video